Allora, in diretta stavolta, il riscaldamento, il telecomando, la marita rossa e blu, la macchina, la meraviglia. Questo è tutto, questo è Mikhail Rydic, la scheda, meraviglia. La sala stampa di Casteldebola, sussurriamo perché ci sono persone al lavoro, le emozioni, straordinarie, non guardiamo neanche detto, ma io lo sopra è un grande privilegio essere qua e poter mostrare l'immobile. E le sedie sono le stesse della sala stampa dello stadio regato per la magia, tutto quanto è meraviglia magia, tutto quanto è luogo, come un museo, no? Lasciamo lavorare con lei, siamo arrivati tardi, non per scelta, ma dalle giochiglie, giocheremo, giocheremo, e giochiamo le prese. Le emozioni, no? Le emozioni. Siete collegati i gentili amici con le emozioni. Questo è il centro sportivo di Casteldebola, c'è la reception, c'è tutto. C'è Marco Nosotti, c'è Gloria Radini, ci sono i colleghi, ci sono il direttore generale, direttore sportivo, quindi il tutto. L'attività di Nucci con Sertoi. I genitori, ciao. È una meraviglia. Guitatore. Sky Sport 24. Tutto quanto. E' rappresentativo. io sono vanni zagnoli è un collaboratore del bologna si che cos'è storico di bologna cosa fa lo storico mostre lo stadio nelle vetrine in tribuna posso rubarle qualche minuto il video signore video io uso video pubblico su youtube zona notte si dica che devo andare no devo bloccare il signore posso aspettarla mi tengo molto perché non sono di bologna vengo raramente posso rubarle 5 minuti in video sul suo lavoro se non vuole il viso se non vuole essere inquadrato ma io so memoria che tutte le persone se cercai passa tutto in secondo piano se c'è uno sconosciuto le persone devono scappare io inseguo il giocattore ma io l'aspetto è il mio lavoro io l'aspetto il problema che secondo me io non so cosa posso